Dopo una lunga attesa doveva tornare nel suo Molise proprio nelle prossime ore per andare in scena domenica prossima al Teatro del Loto di Ferrazzano. Flavio Bucci è morto, stroncato da un infarto mentre si preparava per il ritorno nella sua terra natale. Proprio poche ore fa aveva detto di essere felicissimo di questo ritorno a casa. Bucci, 73 anni, era di casa calenda. Il suo paese qualche anno fa gli aveva anche concesso la cittadinanza onoraria. Una carriera strepitosa, la sua esplosa negli anni 70 quando interpretò Liga Bue in uno degli sceneggiati che ancora oggi è considerato uno dei più grandi eventi televisivi di sempre. Poi altri cento film, tra questi grandi classici come Il Marchese del Grillo e Branca Leone, fino al Divo con Paolo Sorrentino. Viveva da qualche anno a passo scuro sul litorale romano. Negli ultimi tempi tanti problemi di salute, anche economici. Poi una rinascita con un ritorno in scena che era attesissimo. Lo spettacolo che doveva andare in scena all'Oto di Ferrazzano domenica e lunedì si intitolava E pensare che ero partito così bene. Era lui stesso sul palco a raccontare la sua vita. In queste immagini una delle sue ultime volte in Molise, quando all'Università del Molise arrivò per un incontro seguitissimo insieme ad un mostro sacro come Gigi Proietti. Poi ci sono sempre venute molte volte, insomma, diciamo le feste di Natale, queste feste qui erano sempre qui a Campobasso, a Campobasso, a Campobasso, a Campobasso, eccetera. Andavo a bammare a Termoli, dalla Cassino. Grazie.